L'importante traguardo raggiunto dall'Agagas in Serie B, oggi riconoscimento da parte del Sindaco. Oggi noi siamo stati inviati dal Sindaco che ringraziamo perché ha voluto riconoscere a questa squadra, a questo team, a questa società il merito di aver scritto una pagina importante nella storia del calcio agrigentino con la conquista dopo 18 anni della Serie D. E' importante per noi essere qui oggi perché significa che l'amministrazione comunale ci è accanto e che quindi possiamo proseguire questo cammino con grande entusiasmo perché l'abbiamo fatto quest'anno. Io mi auguro che ci siano le condizioni sia dal punto di vista della struttura societaria ma anche del reperimento di qualche grosso sponsor per continuare a fare un campionato di Serie D alla grande per come abbiamo fatto quest'anno. Quindi si prepara? Stiamo lavorando per questo, voglio ricordare che abbiamo postergato al 15 maggio l'aumento di capitale dell'SRL, sto lavorando personalmente ma anche insieme agli altri colleghi dirigenti per il reperimento di un grosso sponsor che ci possa supportare per la stagione a venire perché voglio ricordare che la Serie D è molto impegnativa sia dal punto di vista organizzativo ma soprattutto dal punto di vista economico. Se ci sono queste condizioni io sarò il primo e sarò felice di andare avanti e di regalare ancora ai nostri splendidi tifosi delle grosse soddisfazioni perché se lo meritano, perché voglio ricordare che ci hanno sostenuto per tutta la stagione sia dentro che fuori casa facendo notevoli sacrifici. La vittoria è anche loro, è una vittoria di tutta la squadra, dei tifosi della città intera e mi auguro che possiamo continuare sull'onda di questo entusiasmo e fare un campionato di Serie D alla grande. Oggi a nome della città di Agrigento esprimo tutta la nostra gratitudine alla squadra dell'Agracast per il campionato che ha portato a termine perché con la maglia bianca-azzurra chiaramente porterà nella Serie Superiore i colori e il nome della città. È un momento quindi importante di promozione della nostra città, noi siamo stati a fianco in questi anni con innumerevoli difficoltà e continueremo a essere a fianco di questa squadra nel miglioramento delle strutture sportive per riuscire a dare il meglio e soprattutto per riuscire nella Serie Superiore a dare tutte le condizioni possibili perché questa squadra si possa esprimere al meglio.